Cos'è quella lì? La nostra? Una rega cos'è la costa E come si chiama? Costa Lumi... Costa Lumi... Costa Lumi... Ma è bella? E' grande quanto? Più grande! E' un elefante del cuore! Ma siamo più grandi! Yeah! Andiamo a vedere cosa c'è! Lec young... E... Sì! Non! � Grazie a tutti. 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 Ciao. 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 Ciao.